Ciao a tutti gli amici di PD, ben ritrovati con l'usato della settimana. Oggi abbiamo un bellissimo esemplare di KTM 790 Adventure Orange, anno 2020, poco meno di 20.000 km, tagliandi certificati e molto ricca di accessori, perché troviamo i paramani arancioni, antifurto KTM con immobilizer, quickshifter plus, quindi sia in inserimento che in scalata, rally pack con la possibilità di regolare il controllo di trazione su 9 step, 9 livelli, borsa posteriore KTM, gomme TKC70 con T-Neltal semi nuove, tamponi sul perno ruota anteriore e perno ruota posteriore di protezione e una chicca sono le sospensioni, perché? Perché all'anteriore troviamo la cartuccia Misano completamente regolabile e al posteriore un bel mono all-ins. Continuiamo la lista accessori con una bellissima sella monopezzo della versione R, un po' più fuoristradistica, base d'allargamento del cavalletto laterale. Aspetta Alberto, scusasi di un interrompo, è giusto di iscriversi al canale? No. Iscrivetevi al canale, per noi è importante. Ciao ragazzi! Beh, il bello della diretta. Comunque, iscrivetevi al canale YouTube. Continuiamo con la moto. Quadro strumenti. Ok. E non abbiamo ancora detto il prezzo. Il prezzo di questa moto è 9.990 euro, quindi con meno di 10.000 euro vi portate a casa una bellissima moto con cui andare al lavoro, viaggiare con la ragazza, potete fare quello che volete, molto molto eclettica. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo in concessionaria e sulle nostre pagine social. Ciao a tutti, alla prossima!